Sì, finalmente ci voleva una bella partita di questo spessore diciamo, non solo dal punto di vista del risultato ma soprattutto come una prestazione perché abbiamo battuto molto bene, abbiamo toccato e difeso molto bene e non ci siamo disuniti anche quando abbiamo perso il secondo set per cui il periodo è molto molto difficile, non abbiamo tante occasioni di allenarci per magari anche lavorare un po' di più sulle difficoltà che stiamo avendo in alcuni fondamentali però il periodo è questo, ho detto anche ai ragazzi, nel bene e nel male quello che è successo dimentichiamo e pensiamo subito a quello che dobbiamo fare dopo e adesso ci godiamo questa bella vittoria stasera, domani ci si pensa già a vivo.